signori miei ben ritrovati siamo ancora qui su no man sky nono episodio della nostra serie che devo essere sincero penso giungerà al termine alla fine di questo appunto nono capitolo diciamo così ci saranno degli spoiler quindi magari chi vuole evitare di rovinarsi sorprese che non ci sono eviti di vedere questo video ma partiamo per gradi e continuiamo seppur brevemente questo viaggio eccolo qua ragazzi questo qui è il centro della galassia non l'ho raggiunto fisicamente non ci sono arrivato con la mia nave vedremo ancora un po quello che è il mio viaggio verso il raggiungimento del centro della galassia ci sono arrivato però con la mappa stellare e già ci vuole un po di tempo queste sono le stelle limitrofe al centro della galassia ok stelle che naturalmente sono già state tutte scoperte qui in zona ovviamente perché vi sto dicendo che non l'ho raggiunto fisicamente con la nave perché ragazzi sinceramente una noia mortale nome sky ha dei problemi di base enormi enormi lo vedremo in live commentary a breve faremo ancora un po di quel viaggio che mi ero prefissato di portare a termine ma che sinceramente avendo anche scoperto cosa ci avrebbe aspettato cosa sarebbe successo una volta arrivati a questo nucleo luminoso centrale beh ragazzi vi dico la verità cioè le palle mi sono veramente cascate si nome sky è veramente una bugia nel suo complesso è un gioco mediocre perché se ci basiamo su un discorso totalmente legato al gameplay non offre nulla di che se non le prime fasi di gioco che davvero sono emozionanti ti fanno viaggiare più con la testa che con la vostra astronave perché sogni già quando avrai le tecnologie le capacità per fare viaggi interstellari sogni di poter scoprire cose nuove di poter terraformare un pianeta o distruggerlo nella sua interezza poi ti accorgi che sono tutte puttanate ti accorgi che le stelle sono solo bagliori irraggiungibili ti accorgi che i pianeti già dopo il terzo quarto scoperto sono tutti il copia e incolla del l'uno dell'altro ragazzi no purtroppo nome sky ha fallito e si signori miei sono parole grosse sembrano parole altisonanti ma è la realtà nome sky ha fallito ha fallito in tutto si è presentato a noi dopo anni trascorsi e ascoltando puttanate ascoltando bugie che alla fine sono agli occhi di tutti ed è veramente un peccato io non pretendo che tutti possano capire cosa ci si poteva aspettare da questo titolo non pretendo che tutti possano essere degli appassionati di viaggi spaziali o di titoli di questo calibro dove non è tanto raggiungimento della meta a significare ma è più proprio il viaggio che si va ad affrontare si va bene c'è tanta filosofia in no man sky c'è tanta poesia può essere prendiamo un mio dio guarda questo prendiamolo da questo punto di vista facciamo finta che facciamo finta che il bello di no man sky possa essere questo io sinceramente da no man sky mi aspettavo ben altro mi aspettavo carne al fuoco mi aspettavo un titolo infinito ma per le cose giuste ripeto ragazzi se non è l'iridio mi servirebbe comunque se me ne trovi dell'altro se non volete spoilerarvi alcune cose che insomma di cui discuteremo in questo penso ultimo episodio nel quale tratterò no man sky stoppate il video ok non guardatelo siamo qui su questo ennesimo pianeta ora lo potremmo lasciare tranquillamente perché l'esplorazione planetaria io vi dissi alcuni episodi fa mi sembra tanto strano che per avere il cento per cento o quasi di un pianeta io debba impiegare così tanto e mi sembra ancora più strano che impiegando tutte queste madonna se sei brutto impiegando tutte queste energie tutto questo tempo per appunto esplorare complimenti la compenetrazione per esplorare un singolo pianeta io abbia trovato tutte queste tecnologie ma com'è possibile è possibile ragazzi è possibile perché no man sky non ha nulla da offrire e già con un singolo pianeta voi potete trovarvi tutto l'occorrente per fare il vostro viaggio cioè non vi sto dicendo dopo 5 6 10 pianeti vi sto dicendo dopo il primo pianeta a parte alcune cose un po strane ragazzi si può platinare il gioco tranquillamente senza nemmeno aver visto il finale la dimostrazione qua io ho fatto tutto ragazzi ho fatto tutto e non sono al centro della galassia ok questo già fa capire che qualcosa non funziona alla base che non sia il vero finale che non sia il vero finale il centro della galassia che ci sia dell'altro sotto sicuramente sicuramente ma ciò non toglie che io tutte queste cose le ho potute fare praticamente quasi al primo sistema ok a parte il discorso delle curvature che per forza ne devi fare non guardate questo numero perché questo numero è quello che io continuo a far aumentare cercando di avvicinarmi al centro della galassia ma si arriva al livello massimo molto prima ok ok ti sembra tutto difficile ti sembra tutto sconosciuto e quindi io dico la verità ha funzionato un bel po' ha funzionato tantissimo inizialmente per quanto mi riguarda stessa cosa quando si attiva la mappa stellare la mappa intergalattica cioè quando attiviamo questa bellezza e ti rendi conto dell'immensità della vastità di no man sky capisci che non conti niente che non sei nulla nell'universo e capisci che probabilmente questo gioco ha tanto da offrire cominci a viaggiare cominci a viaggiare con la mente wow cosa ci sarà cosa potrò fare i buchi neri e le stelle i sistemi bla 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 no no ragazzi no sono tutti copie in colla sono tutte finzioni tutto quello che ci avevano detto è finzione la distruttibilità del pianeta non esiste non possiamo distruggere un pianeta non possiamo distruggerlo da una parte all'altra i pianeti in realtà non sono rotondi sono dei livelli quando noi ci appoggiamo è un livello è un rettangolo enorme da percorrere a parte un certo livello di superficie distruttibile diventa intoccabile per non parlare poi di come si è presentato al day one questo titolo perché oltre averci chiesto i 70 euro cash si è presentato in maniera indegna i crash che avvenivano continuamente su playstation 4 erano qualcosa di impensabile ok può capitare una volta la proceduralità di questo titolo l'immensità lo vedete in queste immagini non c'è immensità non c'è niente viene creato di metro in metro il pianeta il sistema la galassia non c'è un cavolo ok noi abbiamo preso un software che proceduralmente ci fa il copy in colla delle solite quattro cose in più era strabuggato come la merda e ingiocabile perché era ingiocabile questo è no man sky ragazzi ma tornando alla mappa intergalattica se vi ricordate all'inizio del nostro viaggio eravamo più o meno distanza dal centro sui 180.000 punto qualcosa anni luce giusto perfetto adesso se state notando siamo a 140.000 quindi in teoria dall'inizio del nostro viaggio stando a queste distanze che ancora bene non riesco ad interpretare perché in teoria ogni curvatura che faccio dovrei fare 1500 anni luce ma se io faccio 1500 per 100 no non tornano i calcoli quindi questa distanza è diversa è un'altra cifra è un'altra unità di misura comunque detto questo io dall'inizio del viaggio ad ora sono arrivato praticamente a togliere una 40.000 un 40k dal nostro viaggio per raggiungere il centro benissimo quindi se io ad esempio faccio modalità libera mi avvicino il più possibile quello è il centro ragazzi l'abbiamo visto anche all'inizio del video e questi che mi segna sono sistemi che hanno un buco nero sì sì finendo la quest dell'atlante perché l'ho finita e è veramente drammatico che in un gioco che comprende un universo esplorabile una quest diciamo pseudo principale possa finire con ma una decina di visite all'atlante una dozzina non ricordo ma non erano certamente tante detto questo finita quella quest che ci spiega anche un po' che cosa sta succedendo di trama qui in no man sky ci viene data la possibilità di trovare i buchi neri ed eccoci arrivati all'ennesimo sistema che presenza le stesse medesime cose degli altri cento che ho già esplorato ok non che un buco nero quindi andiamo verso il buco nero che sapete sono portali che ci aiutano a raggiungere il centro della della galassia ma che ogni volta che vengono attraversate ci fanno un danno alla nave quindi contando che ci fanno fare poco più rispetto agli anni luce che riesco a percorrere con la mia iperguida non ne vale tanto la pena anzi sono una messa inchiappettata diciamolo non che siano orribili da vedere perché penso sia il buco nero rappresentato peggio nella storia comunque va bene detto questo ragazzi intanto che ci facciamo l'ennesimo viaggio e vedremo di quanto avremo abbassato la nostra distanza verso il centro parliamo un po' di quella che è appunto la trama alla base di no man sky inseguiamo questa entità l'atlante come se fosse gesù il nostro dio lui ha all'oniscenza lui ci darà le risposte le risposte alla fine non sto dicendo che siano brutte non sto dicendo che siano idee sbagliate che non possono stare in una trama come quella che è la base appunto di no man sky sì ci può stare ci può stare ma non è certo niente di originale ci accorgiamo che tutto questo è finto noi non siamo niente noi siamo entità e facciamo parte ecco l'ennesimo danno facciamo parte di questo software le galassie sono numeri sono codici binari siamo tutti parte di un qualcosa di finto un matrix sì un piccolo matrix polo nada non sono niente l'atlante è solamente l'ia principale di questo software ok e va bene chi se ne frega possiamo anche dire vabbè hanno voluto interpretarla così prendiamola così è una simulazione è una finzione è un videogioco in poche parole giochiamo in un videogioco che ha come trama l'essere dentro di un videogioco ci può stare benissimo non è la prima volta comunque intanto diamo un'occhiata a quanto si è abbassata la nostra distanza ah sì ah sì eh vedi grazie al buco nero abbiamo praticamente da 140.000 siamo passati a 139.000 ah ragazzi ci abbiamo rimesso un pezzettino di nave ma fa lo stesso di questo di questo andazzo riusciremo a raggiungere il centro dai no ragazzi non riusciremo a raggiungere il centro perché io non ne ho voglia con grande sincerità io non ho voglia di sbattermi per arrivare a un cazzo di nulla perché il centro della galassia tralasciando quella che può essere una trama secondaria l'atlante paolo nada e cazzo di buddha non ci offrirà nulla non ci offrirà nulla il centro della galassia è il niente una volta raggiunto la visione che si avrà del centro della galassia è la stessa che vi ho mostrato all'inizio del video con la mappa stellare un punto luminoso che una volta iniziato il viaggio per raggiungerlo proprio nelle ultime fasi ci farà vedere l'immagine di noi che andiamo a ritroso quindi non che stiamo raggiungendo lui ma lui ci sparerà via quindi come se ci allontanassimo dal centro della galassia per risvegliarci poi in un'altra galassia eh sì ragazzi il gioco comincia nella galassia di Euclide ma prosegue e che sia procedurale anche il discorso galattico non solo a livello di sistemi, di pianeti potrebbe essere c'è chi dice che sono già state scoperte molte altre galassie e che non siano nomi procedurali siano nomi ben definiti come appunto la galassia di Euclide siano nomi che possano lasciare intendere che ci sarà un finale vero e proprio una volta raggiunti i centri di tutte queste galassie predefinite si avrà il vero finale di Monoscale io non ci voglio invecchiare ragazzi su questo gioco ma non ci voglio invecchiare non perché non ho la costanza o non ho la voglia perché il gioco mi ha preso per il culo semplicemente ok? perché se tu mi fai delle promesse se tu mi dici delle cose che poi non esistono e se pretendi che questo titolo venga etichettato come AAA quindi me lo metti sullo scaffale a 70 euro io pretendo certe cose se devi dirmi che ogni pianeta avrà le sue specie tutte differenti totalmente diverse da un sistema all'altro se mi dici che ogni pianeta avrà un suo clima una sua particolarità che sarà difficile poter ritrovare un'altra cosa anche solo simile a quella già vista mi prendi in giro perché in No Man's Sky non c'è tutto questo non c'è varietà non c'è gameplay se lo prendiamo, ripeto dal mero punto di vista videoludico se lo analizziamo come videogioco No Man's Sky non ha nulla non ha nulla tutti all'inizio me compreso trovarono molte similitudini con Minecraft ragazzi Minecraft è dieci volte superiore a No Man's Sky ma che dico dieci anche di più ci sono molte 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 più cose da fare pur avendo un mondo predefinito un mondo che magari è grande come un pianeta di No Man's Sky ma che comunque ti offre migliaia di possibilità in più rispetto a questo gioco che puoi platinare in men che non si dica perché questa è la realtà ragazzi poi continui a viaggiare continui ad inseguire questo punto luminoso e ti accorgi che cosa? che comincia una musichetta e tutto quello che hai fatto si azzera ok c'è la filosofia sotto wow perché la scoperta la voglia di esplorare di scoprire cose nuove dell'uomo non ha mai termine e tutto quello che volete ma sono tutte puttanate per coprire qualcosa che è stata l'ennesima manovra di marketing io non voglio dire che Hello Games sia un team di bastardi io voglio dire che purtroppo loro si siano trovati in una situazione veramente difficile secondo me questa è la realtà loro si sono trovati nella situazione di dover per forza portare avanti questo titolo sotto mentite spoglie Sony è entrata e ha cominciato a finanziare Hello Games ha cominciato a a dare una mano bella forte ok il signor Murray e il suo team composto da pochissime persone avrebbero potuto però mantenere un minimo di dignità e dire ragazzi questo è un indie noi ci stiamo lavorando siamo in una decina di persone tanto poco che ci spremiamo uscirà un gioco di questo calibro ok un gioco improntato sul viaggio sulla fantascienza sullo spazio su quello che volete ma non sarà non sarà tutto questo granché volate basso con i pensieri perché sarà un gioco tranquillo un gioco che verrà venduto a 25 massimo 30 euro ok ok perché meriterà al massimo una cifra del genere ma non di più invece no l'entrata di Sony il fatto che non si poteva non si poteva più tornare indietro ha portato Hello Games e il signor Murray a raccontare un sacco di puttanate questa è la realtà ragazzi ci siamo trovati dinanzi a un titolo che non ha nulla che non ha nulla di quello che ci aveva promesso andiamo qui con questo frizzino a prenderci le cose ok le fai una volta le fai due le fai dieci basta non puoi più non puoi far niente non c'è pericolo il No Man's Guide non c'è sfida raggiungi il tuo massimo troppo in fretta non senti mai la paura di dover sopravvivere realmente ragazzi il No Man's Guide non funziona non funziona purtroppo non funziona sono contento sono contento di non essere stato uno di quelli che ha millantato wow i primi gameplay wow sono strafico si wow merita la spesa e questo e quest'altro no vi ho sempre detto calmi stiamo calmi perché qua bisogna capire come funziona il mondo intorno a noi perché qui non mi è chiara la situazione vediamo un po' come funziona ne parliamo più avanti perché qua il rischio di ciofeca è dietro l'angolo poi mi dispiace perché nonostante tutto No Man's Guide ha delle cose buone ve l'ho detto l'inizio è è bello è davvero survival ha tante cose che mi hanno mi hanno lasciato basito inizialmente anche solo vedere le dimensioni di un pianeta singolo un sistema le vedute che ti regala con questa grafica che ok non sarà quello che ci si aspetta da un titolo appunto pagato da AAA nel 2016 su una console come Play 4 come un pc performante però funziona non è quello il discorso non è tanto il fatto della grafica perché a me sta più a cuore il discorso dei soldi allora perché se io con 35 euro mi sono preso l'edizione da collezione di un gioco un indie del calibro di Life is Strange vero capolavoro del settore cioè io non posso pagare 70 euro questa cosa e decantarlo come il salvatore del nuovo millennio perché non lo è ma non è nemmeno sufficiente perché come videogioco No Man's Sky non è sufficiente o rasenta la sufficienza eh purtroppo questa è la realtà io poi posso capire il valore affettivo posso capire che tante persone comunque lo reputino un titolo valido perché appunto magari trovano in questo gioco più che più che un discorso legato al gameplay vero e proprio un discorso legato alla filosofia di vita la filosofia di di staceppa ragazzi cioè io quando compro un videogioco è per giocare anche voglio ragionarci sopra voglio che mi faccia pensare che mi regali delle emozioni No Man's Sky ripeto me ne ha regalate inizialmente poi mi sono accorto che mi ha preso per il culo ci ha preso per il culo un po' tutti diciamo chi l'ha acquistato ha dato fiducia ai programmatori di No Man's Sky ha un po' pestato una merda lo sappiamo io primo primo tra tutti quindi non mi dà fastidio ammetterlo sono fortunato che dando pur dentro un altro titolo non ho pagato il prezzo pieno ma ora ragazzi io non posso perdere l'occasione di sbarazzarmi No Man's Sky magari prendere 40 euro 50 euro perché lo metto in pronotazione per qualcos'altro perché devo raggiungere il centro del nulla no ragazzi mi dispiace il nostro viaggio finisce qui ripeto questo non è il finale di No Man's Sky questo è il finale del mio viaggio perché No Man's Sky nel bene e nel male è giunto al termine per quanto mi riguarda i nostri compiti che ci hanno portato al platino sono stati eseguiti abbiamo classificato tanti pianeti abbiamo classificato tante specie animali tutti uguali tanta flora tutto uguale non c'è fra un cazzo sinceramente tanto che siamo qui possiamo fare un'ultima cosa a questo guardate quanti sistemi non hanno passato perché la noia è talmente tanta che dopo li passi come se fossero stazioni di servizio ci passi davanti fai il rifornimento e vai ti prendi le tue le tue cellule di celle scusate di curvatura trovi materiali ti ricarichi l'iperguida prendi e vai diventa tutto un lavoro meccanico inutile ok quindi direi siamo arrivati qui rinominiamo quest'ultimo sistema lo rinominiamo canale ferdemix 84 e il primo pianeta su quale siamo sbarcati poco fa lo chiameremo grazie signori miei ecco fatto basta ragazzi io con No Man's Sky ho chiuso chiudo qui detto questo per chi continuerà il viaggio alla ricerca delle risposte di No Man's Sky penso veramente pochi perché vedendo tutti quelli che hanno chiesto rimborso per pc e tutti quelli che lo stanno denigrando comunque dopo aver speso una cifra per un prodotto incompleto o comunque millantato per qualcosa che non è penso che ci vedremo il suo svolgimento su youtube no? il nostro universo vero e proprio è youtube vedremo le risposte che aspettiamo in un video di qualcun altro perché no? ci ritroveremo sotto a quei commenti detto questo signore io vi saluto e vi ringrazio vi rimando ad un prossimo video sul canale vi invito a farvi sentire nei commenti ciao a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie.